Sono partiti i lavori del primo stralcio di consolidamento di quello che è la frana di Carignano, precisamente nella strada Sant'Andrea di Carignano e quindi a Valle, laddove nel 2015 ci fu un importante evento franoso che interessò sia i residenti ma anche tutti quelli che ne erano fruitori. In un primo momento si fecero degli interventi, naturalmente per cercare di contenere, oggi passiamo in una seconda fase importante, proprio a Valle, dove andremo a realizzare delle gabbionate che sono praticamente coincidenti su tre assi, sono delle gabbionate dotate di fondazioni a platea su dei pali e con dei tiranti passivi, precisamente in questi tre punti, oltre che a stabilizzare le stesse scarpate con quelli che sono dei terreni armati, quali i basi di ancoraggio che poi diverranno. Oltre questo verranno realizzati dei fossi di guardia, delle cunette per far sì che il terreno possa ancora meglio essere aderente a tutto l'effetto piovoso e nello stesso tempo verrà anche sistemata poi la sede stradale. Questo è un primo intervento che andremo a realizzare adesso, un intervento che è importante anche a livello di risorse, parliamo di 550 mila Euro che appunto riguardano sia un finanziamento ministeriale per il rischio idroiologico a cui ci siamo candidati, ma anche una copartecipazione di risorse comunali. Questo si dovrà poi seguire ad un secondo stralcio di lavori che oggi non è finanziato, ma come usciranno dei finanziamenti ad hoc ci candideremo sicuramente che dalla valle ci sposteremo a Monte, quindi precisamente sulla strada di Carignano più vicino al cimitero, ecco che poi dovrà essere ripetuto l'intervento sulla parte alta. Oggi, anche alla luce di quanto è accaduto ultimamente col terremoto, con le ultime alluvioni, il Ministero si sta adoperando per erogare dei nuovi finanziamenti anche importanti e noi ci faremo trovare pronti con dei progetti significativi e di messa in sicurezza per la città.